La funzione dei patronati è importante anche per i lavoratori stranieri, soprattutto in un'ottica di prevenzione degli infortuni. Si conferma un dato di fiducia dei cittadini stranieri per la richiesta di tutela su tutta la dimensione che li interessa, sia per quanto riguarda la loro attività, la vita previdenziale, sia per quanto riguarda la tutela della salute. Una funzione riconosciuta anche dal Ministero del Lavoro. Le forme con cui si esplica l'attività di tutela e di promozione dei diritti delle persone va continuamente adeguata alle condizioni nuove in cui si viene a presentare. Però quell'elemento basilare che le organizzazioni associative e sindacali che hanno promosso patronati siano effettivamente elemento integrante di questa coesione sociale, credo sia un punto irrinunciabile.